In Italia sono 4 milioni i lavoratori sottopagati, un esercito senza tutele il più delle volte precario. Prima della pandemia vivevano con 4 euro all'ora. Dopo la crisi dovuta al Covid sono rimasti esclusi dagli ammortizzatori d'emergenza attivati dal governo. Tra le categorie più sfruttate ci sono gli operatori dei call center, quelli che hanno un regolare contratto, sono 20.000, percepiscono un salario di 8 euro l'ora. C'è però chi prende anche la metà. È una vera e propria gara a ribasso, il più delle volte poi, chi ha un part-time, lavora a tempo pieno e non ha riposi. Ne sanno qualcosa i 450.000 stagionali del turismo che lavorano molte più ore di quelle previste, arrivando così a 6-7 euro lordi. Dell'esercito dei sottopagati poi fanno parte i camerieri, gli assistenti nelle cucine, gli addetti alla sanità pubblica che nella fase acuta hanno lottato contro il virus. Questi ultimi sono circa 12.000, tutti con contratto a tempo determinato. Ci sono infine i rider, sono quasi 30.000 a sfrecciare con le bici nelle strade delle città, anch'essi esclusi dalle forme di sostegno a reddito, guadagnano in media poco più di 3 euro a consegna.